... Michele Zerrillo, è il festival numero? 13 Certo, farlo 12 volte, evidentemente sei diventato un socio fondatore Sì, sì, c'è un pezzetto di Sanremo che è mia Un pezzetto dell'Aristo, il divanetto lì che è la mia alcova Senti, per quanto possa sembrare una domanda ovvia e anche la risposta lo sarà ma che emozione è dopo 13 volte rifarlo ancora? È forte, è molto... Perché la gente non ci crede che è così, mentre invece... In realtà sì, perché poi, come ben sai, mi piace dire, usare questa frase in questo periodo in cui a Sanremo faccio sempre un po' se indietro Nel senso proprio che mi piace andare avanti tutti quelli un po' più yeah tutti agguerriti che fanno notizia, che creano gossip, che creano... Invece tu fai con la canzone e basta Io la canzone, tipo, li guardo, me li osservo, dico vabbè ci vediamo fra due o tre anni per vedere poi i tabulati insieme che risposta daranno perché poi la verità è che meno male che è così perché a prescindere dai lustrini e dai fiocchetti... Le canzoni hanno una vita propria Le canzoni hanno una vita propria, la gente ama suonarle, cantarle, ascoltarle, viversele per cui lo sappiamo tutti che è così, la storia ci insegna questa cosa su tutte le forme artistiche Non c'è dubbio, senti ma mi interessa il fatto che quest'anno tu hai una canzone che non è proprio prevedibile cioè è un po' una sorpresa per chi ti ascolta perché invece dal grande cuore melodico di Zarrillo c'è un po' del tuo cuore rock mettiamola così, elettronico, moderno, chi conosce i miei dischi, chi conosce i miei album, chi viene ai miei concerti sa che ne... sicuramente rimarrà più sorpreso il pubblico sanremese, quello che guarda prevalentemente Sanremo e che mi conosce per La Rosa Blu, per Cinque Giorni, per L'Elefante e la Farfalla, per l'Acrobata, l'Alfabeto Gliamanti tutte canzoni molto oniriche, così, questi testi veramente poetici e con delle musiche molto classiche Alcune volte sono venuto con Strade di Roma, fai conto, era una canzone un pochino diversa, con una struttura un po' diversa La notte dei pensieri era innovativa nelle sonorità Siamo tutti classici, Michele Capisci, cioè, questa è la cosa che... ma anche io stesso, quando mi metto ad ascoltare i brani e cito tutti questi titoli, mi imbarazza un po' perché dico... Ma l'ho fatta io Ho questo vissuto, poi merito per me e di chi ha collaborato con me, per carità Però, avendo vissuto tutti questi Sanremo e almeno dieci di questi dodici fino ad oggi sono canzoni che la gente canta È bella, è una bella soddisfazione Senti, il pezzo nuovo quando l'hai pensato? Perché non è pensato per il Festival No È pensato per te Io stavo sonicchiando un po', chiaramente ho rimesso su famiglia da un po' di anni e ho dei bambini piccoli e quindi, sai, il tempo cambia un po', i suoi spazi quotidiani per cui, diciamo, lavoro un po' meno sotto l'aspetto proprio del... Prima mi iniziavo lì dalle tre del pomeriggio alle quattro del mattino ininterrottamente, andavo a cena, poi tornavo, anche se andavo a una festa di un amico, poi tornavo a casa e continuavo a lavorare Oggi un pochino meno, però colgo quegli attimi in cui sento che ho voglia di scrivere e un pomeriggio di circa un anno e mezzo fa stavo sonicchiando al pianoforte, al saloncino di casa mia e giocando, poi ho detto questa cosa carina sulle memo vocali, ormai va di moda, no? memorizzare tutto lì e mentre facevo questa cosa, poi i miei bambini che me la canticchiavano dietro aspetta, forse sta cosa è carina forse funziona forse l'ho fatta sentire al mio produttore Canini al mio manager, sono impazzito ho detto, ma questa è fortissima dico, vedi, a volte giocando perché no? senti, l'ultima cosa, cosa ti aspetti che succeda da questo festival in poi? tu hai già avuto tutte le soddisfazioni possibili quale altra soddisfazione ti vuoi togliere? guarda, uno che vive la mia posizione musicale e artistica chiaramente la cosa che ama di più è ed esserci, no? certo è rimanere nell'immaginario collettivo appunto stare dentro la vita delle persone musicalmente e riuscire a fare dei buoni concerti quella è la cosa bella mi sembra già un ottimo risultato sì, è quella perché fare Sanremo con un buon pezzo che arriva alla gente con un testo scritto molto bene da Valentina Parisse ottima, giovanissima, molto bella una ragazza molto in gamba con cui avevo già scritto vivere e rinascere devo dire ecco, questi piccoli cambiamenti mi stanno dando la voglia perché poi il nostro lavoro è fatto di stimoli bisogna comunque no, perché la spinta è quella riuscire a poi portare sul palco quei tre, quattro brani nuovi insieme ai classici che fanno... ti fanno restare nella testa della gente ti fanno divertire ti danno energia la danno ai musicisti che sono sul palco e al pubblico che ti viene a sentire, a vedere e che a volte paga anche un biglietto per cui bisogna rispettare tutto questo e far sì che questo diventi qualcosa di come dire di umanamente vero positivo le famose buone vibrazioni le buone essere propositivi perché questo in un momento nel momento in cui viviamo una realtà sociale politica complicata un po' complicata dove siamo tutti obnubilati da questa vita che ci vede un po' così un po' storditi da... perché in realtà Ernesto ci pensi bene noi viviamo sta vita ma se no un po' degli automi ma un po' sì un pochino sì un pochino sì ti permesso? perché vai avanti sì poi vai l'Instagram Facebook sì poi c'è c'è il web vabbè ok rispondo al WhatsApp no non rispondo questo allora tutta la giornata che passa così no? e meno male che noi facciamo dei lavori dove la creatività un po' deve vincere sulla... quindi diciamo che è un buon modo per interrompere un flusso che ne tanto va interrotto non usiamo termini un po' più brutti va bene grazie grazie a te Ernesto grazie